Rieccoci con il sindaco che risponde all'appuntamento del martedì sera dalle 19.30 alle 20.30, siamo in rigorosa diretta, sono le 22 minuti, minuto più minuto meno, il sindaco impegnato ovviamente per la vicenda della curva non è potuto intervenire però è intervenuto da parte dell'amministrazione vice sindaco Andrea Michalizzi e stavamo parlando proprio del manufatto dello stadio Ganeo che purtroppo ha avuto questo incidente, chiamiamo un incidente di percorso, ma è qualcosa di più di un incidente di percorso. Adesso i due funzionari, quelli ovviamente non lavorano nel comune per 5 mesi, sono interdetti dai pubblici uffici e anche i due imprenditori hanno questa interdizione. I due che sono interdetti il comune dovrà andare avanti ugualmente con altri lavori, quindi dovrà… Ora il cantiere è bloccato. Il cantiere è bloccato, ma i due funzionari seguono solamente quel cantiere lì? No, 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 scherziamo, infatti ci saranno conseguenze anche probabilmente sulle altre opere pubbliche, noi abbiamo tecnici e funzionali che lavorano su decine e decine di cantieri. Perfetto Michalicello, ho visto le opere importanti, questi due funzionari che sono stati interdetti ai pubblici uffici e che avevano, come sta dicendo lei, altri cantieri in mano, quali sono i cantieri più importanti che verranno bloccati oltre a questo in virtù che erano loro che sapevano e avevano le carte per andare avanti? Gli altri cantieri non vengono bloccati, vengono però trasferiti ad altri funzionari e quindi c'è un carico maggiore su gli uffici che devono ridistribuirsi. Ma tipo quali altri cantieri avevano? Beh, è una parte importante degli impianti sportivi, pensiamo a tutte le palestre e gli impianti sportivi che adesso sono in definizione. Scuole, adesso ragiono per comparti, conoscendo come dire i funzionari coinvolti. Ed augurarsi che non siano coinvolti anche in... Sono funzionari anche importanti, quindi ci sono, come dire, delle... Ma io se penso nel mio settore, ci sono centinaia di attività in corso sulla quale questa indagine ovviamente pesa. Per quello il nostro atteggiamento è quello di preoccupazione, dire si faccia chiarezza il prima possibile e si metta nelle condizioni anche la città di poter essere operativa, per questo noi saremo collaborativi. Ma pensavate che poteva succedere una cosa del genere per quella curva lì? L'avevate, avevate... Ma dopo quello che era successo in primavera, un attimino... Beh, insomma, quella era una visaglia importante. Guardi, io ho massima fiducia dei miei collaboratori, però ovviamente è un giudizio mio. Quello che è accaduto a primavera faceva presagire sicuramente la possibilità che la magistratura potesse volere o sentire l'esigenza di approfondire alcune questioni. Ma abbiamo appena chiuso una vicenda che riguardava il dirigente, il mio dirigente dei lavori pubblici, indagato e ha avuto un processo per presunte scorrettezze su il bando che ha individuato la sua posizione, quindi reati anche piuttosto gravi contro la pubblica amministrazione. Dopo un anno erotti di dibattimento è stato assolto. Per fortuna vuol dire che non era successo niente, però insomma... Però è passato un anno e più. Però è passato un anno e questo incide sull'attività di un'amministrazione che ha cantieri e attività in giro per la città. Penso che tutti i cittadini li vedano. Quindi noi abbiamo l'esigenza che la giustizia faccia il suo corso e noi collaboreremo sempre perché si possono avere tutti gli elementi, ma vogliamo anche che si faccia presto perché dobbiamo anche... Ma lei sa che i tempi... Purtroppo non abbiamo la statistica dalla nostra parte, questo è vero. Vabbè, vedremo quello che succederà. Ogni modo noi ovviamente metteremo informati come... Lo stadio comunque è utilizzabile, ecco, questo va detto. Sì, ma ci mancherebbe altro che è utilizzabile. No, perché magari chiuso lo stadio sembra... Anche perché quella curva lì, insomma, non è che abbiamo la Serie A, ci sono 40.000 o 30.000 persone che vanno a vederla. Sfortunatamente dico perché sarebbe stato bello averle, dunque non c'è nessuna difficoltà sotto un aspetto dell'affluenza dello stadio stesso perché la capienza c'è e comunque non intacca le presenze che vanno a vedere le partite o molto probabilmente ad altre cose. Sentami Caricci, nel cambiare ragionamento, oltre ad un'altra tegola, è arrivata che secondo il rapporto ecosistema urbano del 2022, lega ambiente Padova la ventinovesima tra le città italiane per performance ambientali, guadagnando sette posti rispetto all'anno scorso. E Padova si piazza al primo posto per il fotovoltaico negli edifici pubblici. Ma la città veneta con più consumo di suolo, questo per quanto riguarda l'ambiente. Però siamo scesi e di parecchio come sicurezza delle città italiane, eravamo dicesimi e siamo andati, non ricordo, adesso non ce l'ho, ventinovesimi, non vorrei, non mi ricordo, insomma abbiamo... E cosa sta succedendo qui a Padova, Andrea Michalizzi? Ho detto le due cose, quella positiva, l'ambiente, e l'altra un po' meno positiva, dove il tenore di vita della città di Padova è sceso come tranquillità, come modo di vivere. Sì, l'ambiente è contraddittorio, nel senso che noi viviamo comunque in una regione, intesa non come regione Veneto, insomma, ma come area, diciamo, vasta su questa zona della Padana che ha un forte inquinamento. Però abbiamo degli indicatori buoni dal punto di vista delle azioni che stiamo facendo. Lei ricordava prima, siamo la prima città sul fotovoltaico, cioè vuol dire che Padova è un comune che si sta impegnando nel tema energetico, cioè di come riscaldare o produrre energia, i propri ambienti o produrre energia, impattando meno sull'ambiente. Lo stesso stiamo facendo sull'eliminazione pubblica con la riconversione a LED. L'altro giorno è uscito un altro dato, che è contenuto anche in questa statistica, siamo la prima città in Italia per piste ciclabili in rapporto al territorio. Io le ho dato prima lo zuccherino per poi dirle, però... Però continuiamo ad essere tra le città più inquinate, quindi dobbiamo, come dire, insistere su questi asset sulle quali stiamo dimostrando di essere bravi, probabilmente essere anche capaci di uno scatto e una marcia in più. Ma gli indicatori ci dicono proprio questo. Poi c'è il tema della povertà, che soprattutto in zona stazione in questo periodo si sta facendo sentire. Io personalmente sono molto preoccupato e sto lavorando fianco a fianco con i miei colleghi, al sociale Margherita Colonnello e alla polizia locale Diego Bonavina, perché tutta una serie di situazioni di povertà che si stanno riversando sulle strade, sulla città, che inevitabilmente finiscono nel capoluogo e stanno impattando in modo evidente. Allora noi dobbiamo distinguere chi ha bisogno e per questo abbiamo deciso di anticipare il regime di emergenza freddo, quindi dare ospitalità ai senza tetto nelle strutture dedicate, penso all'asilo notturno, piuttosto che altre strutture decentrate, in modo che queste persone intanto non lo stiano per strada e poi possano essere inserite in un percorso sanitario di assistenza che piano piano, come dire, le... E la classifica che siamo... E l'altro c'è il tema dei reati, quelli legati alla droga, questo è un'altra cosa che mi preoccupa, lo dico anche da genitore di una bambina che è piccola, ancora, però è un, come dire, un indicatore della nostra società che deve metterci in allarme. Però siamo sisi di molto rispetto all'anno scorso... E vuol dire che sta aumentando il consumo, vuol dire che sta aumentando il consumo, e tutti i fenomeni, lo spaccio e anche, come dire, poi gli aspetti degradanti intorno di questi fenomeni. Noi stiamo lavorando... Ma non è che questa amministrazione sia un po' troppo buona sotto questo punto di vista? Sulla sicurezza della città dovrebbe essere un attimino più severa? È una domanda che la faccio... perché nel girare nella città di sera già vedi poca gente, sarà anche sotto un aspetto economico, come diceva lei, però la sicurezza, o perlomeno la percezione della sicurezza, non c'è totalmente in questa città. Non si può fare qualcosina di più, secondo lei? Non lo so se siamo buoni, però di sicuro abbiamo affrontato di petto alcune questioni. Stavo dicendo, noi stiamo collaborando... Abbiamo una domanda... Sì, 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 ma infatti voglio ragionare ed è... Voglio dire, non bisogna mai pensare, bisogna vedere sempre le cose che non vanno, almeno io sono abituato in questo, interrogarsi di continuo. Per questo le stavo dicendo, noi stiamo collaborando al massimo con il prefetto e il questore, che poi sono, come dire, le persone che comandano le forze dell'ordine, quindi la sicurezza. Ma l'amministrazione io penso che abbia dimostrato, e lo faremo ancora, anche dove ancora non siamo arrivati, di sapere e voler affrontare a viso aperto alcuni temi. Pensiamo ai giardini dell'arena che erano prima. Ora, noi non è che abbiamo un esercito a disposizione. L'amministrazione pubblica, perché quella ce l'ha il prefetto, il questore, la forza di polizia, diciamo. Noi abbiamo lo strumento della qualità della città che si affianca al... Pensiamo ai giardini dell'arena, abbiamo affrontato il tema di petto, cambiando completamente i connotati, facendo in modo che quel luogo non fosse più un nascondiglio per chi spaccia e per chi delinque. Piazza De Gasperi, ma come abbiamo affrontato il tema di Via Nelli, che era un, come dire, non luogo, ma era, come dire, il Bronx della città di Padova, un ghietto, l'abbiamo non solo demolito, ma lì abbiamo creato i presupposti con una sinergia formidabile con lo Stato per creare lì la nuova questura. E allora perché, in tutto quello che avete fatto poi, la pubblicità, poi ci sono anche i messaggi da leggere, perché ovviamente siamo in ritardo con la scaletta, però questa sera va così, allora perché dopo tutto quello che è stato fatto, che sta dicendo lei, siamo peggiorati nella classifica? Perché dobbiamo lavorare ancora, perché dobbiamo lavorare ancora, non ci tireremo indietro di fronte a questo, sapendo che qui il tema non è solo lo spacciatore, qui è un fenomeno dilagante che è il consumo di droga, che porta ad avere più spaccio, più gente che si droga, e anche nelle nostre famiglie purtroppo questo è un tema, dobbiamo lavorare anche sulla prevenzione. A scuola forse si parla ormai poco di, bisognerebbe tornare a parlare di più di questi temi, perché fin da ragazzo, anche perché si sta abbassando l'età del consumo. E quando vediamo queste differenze, dove pensiamo che vadano a comprarle poi? Dagli spacciatori che poi costituiscono questo tipo di classifiche. No, no, tutto d'accordo, la mia parola domanda... Dobbiamo lavorare perché la città sia sempre meno, come dire, fonte di nascondigli, ma che le forze dell'ordine siano nelle condizioni di potere. E come mai ci sono città invece che migliorano? Cioè, tutto giusto quello che lei dice, ma non credo che sia solo Padova dove c'è la droga che è perversa dappertutto. No, ma io non mi sto giustificando, mi sto cercando di dire che bisogna lavorare... Capisco, però le faccio una domanda. Nella città di Padova faccio molta droga, come sta dicendo lei, ed è difficile, ovviamente uno non può avere un poliziotto ogni angolo, e ci sta. Ma come mai ci sono città che migliorano invece che peggiorare come noi? Loro che comportamento hanno? Perché presumo che la droga ci sia a Padova, c'è a Mestre, c'è a Verona, c'è dappertutto. E come mai peggiora solo Padova e le altre migliorano? Sono fenomeni che hanno andamenti ondulatori, cioè noi peggioriamo, poi magari risaliamo, poi riscendiamo e così anche altre città. Adesso io non le so parlare di Brescia, di Milano e di Torino. No, no, ma ne guardare la classifica... Io guardo la mia città e guardo a questo tema con grande preoccupazione. Sì, però ne guardare la classifica, il Padova era a undicesimo posto, ora è al trentesimo, se non mi ricordo bene a che posto è, però c'era quella che era al trentesimo che è andata al ventesimo. Dunque c'è chi migliora come ha fatto in duratoria. Noi perché siamo peggiorati? Questa è la domanda che le ho fatte, ho capito. Dunque c'è la possibilità di migliorare? C'è stato qualche errore? Per questo le chiedo e le ho fatte questa domanda. Dobbiamo lavorare di più, non so dire adesso qual è l'elemento, sapendo che sono più binari che ci aiutano al contrasto la prevenzione, la città che non offre sacche di nascondigli e le forze dell'ordine che siano presenti anche nel territorio. Stiamo in zona stazione, volevo dire questo, non riuscivo ad agganciarmi, stiamo in zona stazione cercando di trovare spazi per dare più strumenti e più luoghi alle forze dell'ordine per presidiare quell'area della città che è la più, come dire, esposta. E' il modo attraverso il quale vogliamo dare strumenti in più. Non so se sarà la, come dire, la cartina, la carta che consentirà, come dire, di poter, però nel ragionamento dare più spazi e più strumenti alle forze dell'ordine mi sembra, anzi possiamo dire sicuramente che è una politica che va nella giusta direzione e poi dobbiamo, come dire, leggere sicuramente i fenomeni al meglio, ma anche intervenire, agire sempre e sempre meglio. Andiamo in pubblicità, poi, promesso ai nostri telespettatori, leggiamo i vostri messaggi che ne sono arrivati ovviamente e non abbiamo avuto il tempo di leggere, rimanete con noi tra poco.